Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! La terribile tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti e non c'è stato niente da fare per evitarla. Nelle scorse ore, infatti, come riportato da Lego.it, tre bambini, rispettivamente di 8, 10 e 11 anni, sono morti mentre stavano giocando nei pressi del lago Soliul. Quest'ultimo era ghiacciato, ma all'improvviso il ghiaccio si è rotto e i bambini sono caduti nell'acqua ghiacciata. Tre di loro hanno perso la vita, mentre un quarto di sei anni è in gravi condizioni dopo aver subito un arresto cardiaco a causa delle basse temperature dell'acqua. I fatti si sono verificati nell'Inghilterra centrale, con la polizia che sta continuando ad indagare nel tentativo di fare chiarezza su quanto è successo, assicurandosi che nessun altro sia caduto in acqua. Subito dopo che i bambini sono caduti nell'acqua, sono stati allertati i servizi di emergenza, quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. In acqua vi erano già dei poliziotti ed altre persone del luogo che stavano provando a portare fuori i bambini dall'acqua ghiacciata. Soltanto i pompieri, però, sono riusciti a recuperarli dal lago e, purtroppo, al momento del salvataggio, tutti e tre erano già in arresto cardiaco.